Con Zoom è possibile avere più di 100 partecipanti in un meeting. Vi propongo la soluzione ufficiale, quella a pagamento, e vi lascerò un link in descrizione per una soluzione un po' fai da te. Quindi è un piccolo trucchetto per bypassare in un certo senso questo limite dei 100 partecipanti, anche se è giusto dirvi che non è così comodo quanto ovviamente fare la cosa ufficiale. Come sempre dobbiamo recarci sulle impostazioni dal sito. Eccoci, nella sezione gestione account recatevi su fatturazione. Scorrendo un po' verso il basso troveremo l'opzione, o meglio il pacchetto, large meeting. Dovremmo cliccare semplicemente su aggiungi al carrello e da questo menu a tendina abbiamo la possibilità di selezionare 500 o 1000 partecipanti. Ovviamente il costo attualmente è di 83 euro per i 1000 partecipanti e di 46 euro, più IVA adesso vedremo, per i 500 partecipanti. Se non desideriamo che ci sia il rinnovo automatico alla scadenza di un mese, ebbene allora spuntiamo questa casella. Salviamo e continuiamo. Ecco, qui avremo i dati di fatturazione, se abbiamo necessità di modificarli possiamo farlo, così come possiamo modificare il metodo di pagamento andando su modifica. Anche qui salviamo e continuiamo ed ecco che ci viene calcolata anche l'IVA, quindi un totale di 56 euro e 73. Se siamo convinti clicchiamo su effettua ordine. Il pagamento è andato a buon fine, possiamo stampare anche una fattura e Zoom ci dice che dobbiamo assegnare questa funzione agli utenti. Possiamo farlo direttamente da qui, vai a gestione utenti. Zoom non farà altro che reindirizzarci a questa pagina, gestione utenti, utenti. Ora, in questo caso noi siamo il titolare dell'account, quindi andiamo sul nostro indirizzo email. Nella sezione ruolo e licenza andiamo su grandi riunioni. Ora, spuntiamo la funzionalità in questa casella e salviamo. Tutto è andato a buon fine. Andando in gestione account, di nuovo fatturazione, vedremo il pacchetto dei grandi meeting perfettamente funzionante. Questa è la procedura ufficiale, come vi dicevo in descrizione vi lascerò un link appena disponibile di un sistema un po' più macchinoso, ma almeno gratuito.